carissimi amici amiche bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a maria di magdala negli iscritti di maria valtorta stiamo seguendo l'itinerario avvincente di questa grande donna che passa dal fango di una vita spesa nella russuria alle alla seguire di gesù e al cammino verso la santità passando attraverso la meraviglia veramente straordinaria del suo cuore grande forte pieno di amore e anche del suo spirito di penitenza come stiamo imparando a conoscere e a vedere siamo giunti più o meno a un terzo del nostro cammino e il paragrafo che ci attende oggi cominciamo subito a leggere si intitola ella è come il fango divenuto fuoco nel sacrificio offerto da neemia comincio subito la lettura così ce la gustiamo senza induggere troppo in chiacchiere preparatorie venendo da betlemme di garilea gesù e suoi hanno raggiunto il mare nei pressi di sicami non sono ad attenderli molti discepoli che li accompagnano fino a delle povere casupole sulla baia dove possono ristorarsi ed è bello mentre il crepuscolo cala e il mare mormora le preghiera della sera con il fruscio della risacca sulla spiaggetta ghiaiosa vedere la cena di gesù con le donne gli apostoli seduti a rozzo tavolone mentre gli altri parte seduti per terra parte su sedili o ceste rovesciate fanno cerchio alla tavola principale presto termina la cena ancora più presto è sparecchiato perché le stoviglie erano ben poche per i più importanti ospiti il mare si è fatto di un nero dindaco nella notte ancora senza la luna e tutta la sua imponenza si disfere in questo la mesta e solenne proprio delle coste marine gesù altezza bianca fra le ombre sempre più scure si alza da tavola e viene al centro della piccola turba di discepoli mentre le donne si ritirano isacco e un altro accendono sull'arena dei piccoli fuochi per illuminare per tenere lontano i nuvoli di zanzare che forse vengono da acquitrini prossimi la pace a voi tutti la misericordia di dio ci unisce in anticipo sul tempo fissato dando reciproca gioia ai nostri cuori io li ho scrutati tutti questi vostri cuori moralmente buoni come lo dimostra il vostro essere qui in attesa di me informazione in me spiritualmente ancora imperfetti come lo dimostrano certe vostre reazioni che confessano come ancora in voi perdura il vecchio uomo di israele con tutti i suoi concetti e preconcetti e non è ancora uscito da esso come farfalla da larva l'uomo nuovo l'uomo del cristo che del cristo ha l'ampia luminosa misericordiosa mentalità e l'ancor più ampia carità ma non vi mortificate se io ve li ho scrutati e letti in tutti i loro segreti un maestro deve conoscere i suoi scolari per poterli correggere nei loro difetti e credetemi se è un buon maestro non si disgusta per i più difettosi ma anzi proprio su quelli egli si curva di più per migliorarli voi sapete che io sono un buon maestro ed ora vediamo insieme queste reazioni e questi preconcetti vediamo di considerare insieme il motivo per cui qui siamo e per ragione che questo essere uniti ci dà sappiamo benedire il signore che sempre da un singolo bene ottiene un bene collettivo vorrei prima di proseguire permettere soltanto di fare un piccolo stress una piccola sottolineatura per comprendere la differenza che c'è tra una persona che è moralmente buona e che va bene ma che ha ancora bisogno di crescere e di perfezionarsi qui Gesù lo spiega chiarissimamente voi io ho scrutato tutti quanti i vostri cuori sono tutti moralmente buoni e questo già è tanto è la base di partenza perché un cuore moralmente buono vuol dire che è animato da buona volontà e quindi vuol dire che non è un cuore disposto a scendere a compromessi col peccato e questa è una condizione basilare per un cammino di santificazione però questo non basta si può essere moralmente buoni però essere spiritualmente imperfetti cioè pieni di pregiudizi preconcetti modi svalvolati di vedere le cose di pensare si può essere come dire più o meno influenzati ci dicate che si fatte in passato da ferite che ci portiamo dietro situazioni di vita non risolti perdoni non concessi o non ricevuti quindi l'essere umano è un complesso certamente l'essere moralmente buoni è la condizione di base però non basta né per vivere una vita santa perché la santità significa perfezione e la perfezione richiede una spiritualità perfetta quindi di essere non soltanto moralmente buoni ma anche spiritualmente perfetti e l'aver chiuso risolto sanato le situazioni di morte o di sanguinamento ricordiamo l'episodio evangelico dove Gesù in contemporanea quasi guarisce l'emorroissa e fa risorgere la figlia di Gairo ecco quindi un episodio molto importante quello lì molto significativo dal punto di vista simbolico quindi teniamo presente questa cosa ecco e come Gesù vi conosco perfettamente è un buon maestro che corregge il discepolo ovviamente se il discepolo si fa correggere e qui mi permetto insomma di fare qualche sorrisino un po' non ironico ma o se re definirlo esistenziale nel senso che l'esperienza insegna specialmente essi soldati in cura d'anima d'anime è che correzioni sono sempre poco gradite in molti cercano lavoro ma pregano Dio di non trovarlo si dice a Roma nel senso che si si voglio voglio direzione spirituale voglio si fai questo fai quel lato però quando c'è un difetto che fai notare che fai correggere oppure una situazione da sanare è raro che si trovino scusate situazioni di accoglienza di docilità e soprattutto di farsi aiutare uscire fuori da certe gabbie da certe situazioni va bene adesso sentiamo però Gesù che tipo di screening fa agli astanti e ai presenti quindi che tipo di situazioni appunto di 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 imperfezione spirituale vuole manifestare ho sentito dalle vostre labbra la vostra ammirazione per Giovanni di Endor tanto più ammirazione perché si professa peccatore convertito e su questa sua vecchia qualità e su quella nuova appoggia la sua tesi di predicazione presso coloro che vuole portare a me è vero egli era un peccatore ora è un discepolo molti di voi sono ormai venuti al messia per suo merito vedete dunque che proprio con quei mezzi che il vecchio uomo di israele sprezzerebbe dio crea il nuovo popolo di dio ora io vi prego di astenervi da giudicare con giudizio malsano la presenza di una sorella che il vecchio israele non comprende come discepola ho ordinato alle donne di riposare ma non era tanto l'ansia di dare loro riposo quanto quella di poter dare a voi una santa valutazione di una conversione e di impedirvi di commettere peccato contro l'amore e contro la giustizia la ragione per cui ho dato quel comando che ha certo addolorato le discepole maria di magdala la grande peccatrice di israele quella che non aveva scusa al suo peccato è tornata al signore e da chi aspetterà e la fede e misericordia se non da dio e dai servi di dio tutta israele e con israele e gli stranieri che sono fra noi quelli che molto la conoscono e che severamente la giudicano ora che non è più il loro complice negli stravizi critica e deride questa risurrezione risurrezione è la parola più esatta non è il più grande miracolo risuscitare una carne è miracolo sempre relativo perché destinata ad essere un giorno annullato dalla morte io non do immortalità al risuscitato nella carne ma do eternità al risuscitato nello spirito e mentre un morto nella carne non unisce la sua volontà di risorgere alla mia perciò il merito da parte sua non c'è nel risuscitato nello spirito è presente la sua volontà anzi è la prima ad essere presente perciò non è assente il merito del risuscitato ecco su quest'ultimo punto su quest'ultimo capoverso io vorrei fermarmi un attimo perché qui Gesù dice delle cose molto molto importanti il più grande miracolo che Dio possa fare questo lo scrive San Tommaso da Quino nella Somma Teologia è la conversione del peccatore non c'è miracolo più grande molto più grande della risurrezione di un corpo Gesù ne ha fatti trenti risurrezioni poteva fare pure tremila i Vangeli si attestano tre li ricordiamo la figlia del Sinago Gairo il figlio della Vedola di Nain e poi la più strepitosa quella che doveva aiutare le persone a capire bene chi era Gesù che era la risurrezione di Lazzaro dopo quattro giorni ma questi sono tutti quanti i morti di morte naturale spiega Gesù perché quella risurrezione non è come la risurrezione dalla morte di Gesù quindi una vittoria sulla morte Cristo risuscitato dai morti non muore più scrive San Paolo quelle si dovrebbero chiamare più che risurrezione come dire rianimazioni cioè non le chiamiamo così perché sapete nel linguaggio comune anche medico si dice che uno va in rianimazione ma non è morto magari sta in coma irreversibile e poi si riprende non questi erano morti veramente quindi però di fatto quello che è successo si può definire rianimazione perché semplicemente Gesù ha richiamato l'anima nel cadavere e il cadavere è accessato di essere tale è ritornato a essere corpo ed è ritornato a vivere tutto qui detto in due parole certo è una cosa strepitosa per carità non è che questa cosa si può fare se uno non ha l'ausilio dell'onnipotente ovviamente Gesù non ha bisogno dell'ausilio perché è lui l'onnipotente però questa non è una grande cosa niente meriti da parte del risuscitato e un dono destinato poi a essere vanificato dal sopraggiungere l'isola e la morte ma invece il risuscitato dello spirito è no do eternità al risuscitato dello spirito se quello non fa stupidaggine che non va di nuovo a suicidarsi quella risurrezione la porterà alla vita eterna non sarà vinta nuovamente dalla morte a meno che certamente il risuscitato non si impazzisca che adempia il proverbio sinistro citato da San Pietro il cane è tornato al suo ambito la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago se non succede questo non succede niente e poi qui c'è la volontà e quindi c'è il merito anzi Gesù dice è la prima ad essere presente quindi attenzione non si risorge dal proprio decadimento per vivere di involere chi oso una frase a me molto cara se non si vuole guardate volere è potere noi dobbiamo sempre più riflettere sulla potenza veramente grande che ha la volontà la nostra volontà io posso dire adatta da sacerdote che si incontrano e ci sono situazioni di persone che non vogliono risuscitare nessuno verrà a dirti io non voglio risuscitare ma te lo dicono con i fatti perché se tu non ti fai aiutare oppure si 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 mi faccia aiutare ma ogni cosa che ti viene detta tu la di fatto vanifichi tu non vuoi risuscitare vuoi continuarti a vivere la tua piccola vita vedete qui l'esempio no moralmente buona non sei un peccatore non sei una peccatrice ma vissuta al 10% perché le miserie spirituali quindi se una persona non è moralmente corrotta non sperimenta l'orrore del cioè del peccato quindi la disperazione quella solitudine profonda no no ma se non si correggono vizi e imperfezioni di sanno una felicità o cose di questo genere tu la felicità in questa vita non la conoscerai sarai buono non vai all'inferno ma non conoscerai la felicità in questa vita bene riprendo la lettura perché questo ora era un punto molto importante pace in terra agli uomini di buona volontà riprendo la lettura questo non vi dico per giustificarmi io a Dio solo devo rendere conto delle mie azioni ma voi siete i miei discepoli i miei discepoli devono essere dei secondi di Gesù non deve essere in loro nessuna ignoranza e nessuna di quelle inveterate colpe per cui i tanti sono solo di nome uniti a Dio attenzione anche qui a Dio solo devo rendere conto delle mie azioni anche San Paolo dirà questa stessa cosa a me non importa nulla di essere giudicato da voi o da un consesso umano il mio giudice è il Signore e questo vale particolarmente per i ministri di Dio specialmente quando le loro azioni non sono capite o addirittura sono fraintese o addirittura sono messe alla alla berlina lo dico a me lo dico a tanti confratelli stiamo sempre sotto gli occhi dell'Altissimo e preoccupiamoci di lui sapendo bene che a lui dovremmo rendere conto severo e rigoroso di quello che facciamo ma dobbiamo rendere conto a lui non alle creature non agli esseri umani e se qualche essere umano viene a chiedersi di rendere conto per carità con tanta carità e si dice guarda che io di quello che faccio non devo rendere conto a te ma devo rendere conto a Domine Dio la parentesi no dovrebbe essere ovvio ma non sempre è ovvio vi assicuro che può essere così in certe situazioni in certe circostanze proseguo tutto è suscettibile di buone azioni anche la cosa apparentemente meno atta ad esserlo quando una materia si presta alla volontà di Dio fosse anche la più inerte gelata lurida può divenire moto fiamma bellezza pure vedete vi porto un paragone tratto dal libro dei Maccabèi quando Nemia fu rimandato dal re di Persia a Gerusalemme nel ricostruito tempio e sul purificato altare si vollero offrire i sacrifici Nemia ricordava come al momento della cattura da parte dei persiani i sacerdoti addetti al culto di Dio prendessero il fuoco dell'altare e lo nascondessero in un luogo segreto nel fondo di una valle in un pozzo profondo e secco e facessero ciò così bene e così segretamente che solo essi seppero dovere al sacro fuoco questo ricordavano Nemia e ricordando prese i nipoti di quei sacerdoti perché andassero al luogo che avanti di morire i sacerdoti avevano detto i figli e questi avevano detto i figli ancora tramandando così il segreto di padre e figlio e vi prendessero il sacro fuoco per accendere il fuoco del sacrificio ma scesi i nipoti nel pozzo segreto in un fuoco trovarono ma densa acqua una memma putrida fetida pesante lì filtrata da tutte le ingombre cloache della devastata Gerusalemme e lo disse alla Nemia ma questi ordinò fosse presa di quella che gli fosse portata e fatti porre la legna sull'altare e sulle regne e sacrifici spruzzò fondantemente tutto onde fosse asperza ogni cosa con l'acqua come il musa il popolo stupito e gli scandalizzati sacerdoti guardavano e fecero con rispetto solo perché era Nemia che ordinava ma quanta tristezza nei cuori quanta sfiducia come in cielo erano nubi a rendere triste il giorno così nei cuori era il dubbio a rendere melanconici gli uomini ma il sole ruppe le nubi e scese con i suoi raggi sull'altare e le legne spruzzate dell'acqua melmosa si accesero con grande fuoco che subito consumò il sacrificio mentre i sacerdoti pregavano con le preghiere composte da Nemia e con gli inni più belli di Israele finché tutto il sacrificio fu arzo e per persuadere le folle che Dio può anche con le materie meno atte ma usate a retto fine produrre prodigi Nemia ordinò che il resto dell'acqua fosse sparsa su grandi pietre e le pietre spruzzate dettero fiamme e in esse si consumarono nella gran luce che veniva dall'altare capito ora ogni anima è un fuoco sacro messo da Dio nell'altare del cuore perché serva ad ardere il sacrificio della vita con amore al creatore della stessa ogni vita è olocausto sebbene spesa ogni giorno è un sacrificio che va consumato con santità ma vengono i predoni gli oppressori dell'uomo e dell'anima dell'uomo il fuoco sprofonda nel pozzo profondo e non per necessità santa ma per stoltezza nefasta e là sommerso negli scoli di tutte le centina di vizi diviene fango putrido e pesante finché non scende in quel profondo un sacerdote e riporta alla luce del sole quel fango posandolo sull'olocausto del suo proprio sacrificio perché sappiatero non basta l'eroismo del convertento ci vuole anche quello di colui che converte anzi questo deve precedere quello perché le anime si salvano con il sacrificio nostro perché così si giunge ad ottenere che il fango si mudi in fiamma e Dio giudichi perfetto e grato alla sua santità e al sacrificio che si consume faccio semplicemente notare aspetto molto importante quello che Gesù ha appena detto non ci vuole soltanto l'eroismo del convertendo ma anche di colui che converte in che senso nel senso che non si converte nessuno e qui parlo specialmente se qualcuno sentirà ai miei confratelli che ha le persone costituite in cura d'anima le nostre chiacchiere non convertono nessuno se se non sono precedute da pippi preghiera e penitenza perché le anime sono come terre aride senza acqua quindi quelle bisogna innaffiarle anzitutto e questo si fa con la preghiera e poi però bisogna anche vangarle ararle quindi per essere disposti ad accogliere il seme della parola perché se io butto un seme su una terra avete visto quelle terre rialse dal sole completamente piatta il seme non c'è non c'è niente ma l'ho bagnata è qualcosa ma non basta averla bagnata bisogna dissodarla quindi come diceva il buon santo curato tazzo quando andavano i preti a lamentarsi con lui che si convertivano nelle parrocchie hai pregato fatto digiuno fatto disciplina fatto questo fatto quell'altro no vai comincia a fare questo e dopo ne riparliamo proseguo la lettura questo paragrafo molto lungo comunque Gesù continua a spiegare e a commentare è allora che non essendo ancora sufficiente appersuadere il mondo che un fango pentito è ancora più ardente di un fango comune di un fuoco comune anche se fuoco consacrato il quale fuoco comune serve solo ad ardere legna e vittime ossia materia ed essere arse ecco che questo fango pentito diviene tanto potente da accendere ed ardere anche le pietre materie incombustibili e non vi chiedete da che viene a questo fango questa proprietà non lo sapete ve lo dico io perché nell'ardore del pentimento essi si fondono con Dio fiamma con fiamma fiamma che sale e fiamma che scende fiamma che si offre amando e fiamma che si concede amando abbraccio di due che si amano che si ritrovano che si congiungono facendo una cosa sola e dato che la fiamma più grande è quella di Dio ecco che si trabocca soverchia penetra assorbe e la fiamma del fango pentito non è più fiamma relativa di cosa creata ma fiamma infinita di cosa increata dell'altissimo potentissimo infinito di Dio questo sono i grandi peccatori convertiti veramente totalmente convertiti generosamente datisi alla conversione senza nulla trattenere del passato ardendo per prima cosa se stessi nella parte più pesante con la fiamma che si alza dal loro fango corso incontro alla grazia e toccato da essa in verità in verità vi dico che molte pietre in Israele saranno investite dal fuoco di Dio per queste fornaci ardenti che sempre più arderanno fino alla consumazione della creatura umana e che continueranno ad ardere le pietre le tiepidezze le incertezze le timidezze della terra dal loro trono in cielo veri specchi untori soprannaturali che ustori soprannaturali che raccolgono le luci unettrine per convergerle sulla umanità e accenderla di Dio faccio notare anche qui i grandi peccatori convertiti vediamo gli avverbi che usa Gesù veramente la conversione deve essere vera autentica sincera poi totalmente convertiti la conversione è autentica quando è totale non è che si lascio l'ottanta per cento dei peccati e il venti me lo tengo no totale il passato non viene trattenuto viene consegnato queste sono le conversioni grandi e queste sono le conversioni che per il fatto stesso di essere sono capaci di bruciare le pietre erano fango ma sono capaci di bruciare le pietre vi ripeto che non avevo bisogno di giustificare le mie azioni di prendere la lettura ma ho voluto che voi entraste nel mio concetto e lo facesse vostro per ora per altri casi con simili futuri quando io non sarò con voi un deviato concetto un farisaico sospetto di contaminare Dio col portargli un peccatore pentito non vi trattenga mai dal fare quest'opera che è coronamento perfetto della missione alla quale vi destino abbiate sempre presente che io non sono venuto a salvare i santi ma i peccatori e fate voi il somigliante perché l'iscepolo non è da più del maestro e se io non li pugno di prendere in mano i rifiuti della terra che sentono bisogno del cielo che lo sentono finalmente giubilando li porto a Dio perché questa è la mia missione ed ogni conquista è una giustificazione della mia incarnazione mortificante all'infinito non ripugnate dunque di farlo neppure voi uomini limitati che più o meno avete tutti conosciuto l'imperfezione e siete fatti della stessa natura dei fratelli peccatori uomini che io eleggo a salvatori perché sia continuata la mia opera nei secoli dei secoli della terra quasi che io continuassi a vivere su di essa in una secolare esistenza anche qui devo fermarmi un attimo quindi attenzione qui Gesù parla certamente di peccatori pentiti Maria di Mago è l'immagine della peccatrice pentita conversione totale conversione vera taglio col passato Gesù non parla di io sono venuto per salvare i peccatori i peccatori che vogliono essere salvati però non è che un peccatore si salva senza pentirsi e su questo noi ministri dobbiamo fare un'estrema attenzione perché se un peccatore è pentito anche se ti porta una montagna di fango te la scarica addosso per esempio in confessione generale tu lo assolvi ma se il peccatore non è pentito veramente devi ammunirlo devi che il peccatore deve lasciare che si può lasciare non è vero che non si può lasciare il peccato eh ma quello è un vizioso quello è un lussurioso di vecchia data come fa? fa fa come come fa? fa basta volerlo basta certamente volerlo la volontà è debole quindi usare la grazia pregare e stare vicino ai sacramenti e fuggire le occasioni sono tutti atti volontari ma queste cose si fanno e come chiunque è nato da Dio non pecca chi non pecca non l'ha mai visto e conosciuto chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto scrive San Giovanni e non scrive a bambera San Giovanni gioia immensa per un peccatore pentito quando parla della parabola della pecorella smarrita scusate c'è più gioia in cielo per un peccatore che si pente che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione e Gesù dice ho fatto e vi ho detto queste cose perché voi dovrete essere i miei salvatori io li vi leggo a salvatori cioè attraverso i suoi sacri e santi ministri perdonatemi Gesù continua la sua opera di salvezza in una sorta di mistica incarnazione continua riguarda nelle anime di questi degni suoi ministri a tal riguardo Gesù prosegue e tale sarà perché l'unione dei miei sacerdoti sarà come la parte vitale nel grande corpo della mia chiesa di cui io sarò lo spirito animatore e intorno a questa parte vitale si accentreranno tutte le infinite particelle dei credenti a fare un unico corpo che dal mio nome avrà un nome ma se mancasse la vitalità nella parte sacerdotale potrebbero le infinite particelle avere vita in verità che io essendo in esso potrei spingere la mia vita fino alle particelle più lontane trascurando le cisterne di canali otturati e di inutini renitenti al loro ministero perché la pioggia scende dove vuole le particelle buone capaci da se stesse di volere la vita vivrebbero ugualmente la mia vita ma che sarebbe allora il cristianesimo una vicinanza di anime d'anime vicine eppure separate da canali e cisterne che non sono più il laccio che unisce distribuendo di ogni particella il sangue vitale è venuto da un unico centro ma sarebbero muri e precipizi di separazione attraverso i quali le particelle si guarderebbero umanamente ostili soprannaturalmente afflitti dicendo nei loro spiriti eravamo eppure eravamo fratelli e tali ancora ci sentiamo per quanto ci abbiano divisi una vicinanza non una fusione e su questa rovina splenderebbe dolente il mio amore e ancora non pensatevi che ciò valga solo per gli scismi religiosi no serve anche per tutte le anime che restano sole perché i sacerdoti si rifiutano di sostenerle di occuparsene di amarle contravvenendo alla loro missione che è quella di dire di fare ciò che io faccio ossia venite a me voi tutti ed io a Dio vi condurrò andate in pace e Dio sia con voi ecco bellissime queste considerazioni finali di Gesù che sono una nuova esortazione alla santità allo zelo per gli apostoli un sacerdote deve sostenere le anime deve occuparsi delle anime deve amarle deve compiere la missione per cui è stato costituito e qual è che deve fare un sacerdote venite a me voi tutti ed io a Dio vi condurrò un sacerdote è colui che porta le anime a Dio e Dio alle anime punto è un uomo di Dio non sono altre le cose che deve fare un sacerdote non deve fare l'uomo come dire il public relation o il piacione d'accordo o il compiacente o giocare a fare il vicino perché si veste come i laici dove staranno scritte queste cose ancora lo devo andare a leggere il compito di un sacerdote è esattamente quello che Gesù ci ha detto e basta bene quindi qui c'è stata una esaltazione in diretta di Magda da parte di Gesù perché lei è l'emblema della peccatrice convertita di quella che taglia tutti i ponti col passato di quella che fermamente vuole vivere una vita nuova è capace a sfidare mezzo mondo come in queste circostanze inevitabilmente accade pur di poterlo fare ora un nuovo paragrafo forse l'ultimo diamo un po' che cosa abbiamo che si chiama il primo commiato e cioè dopo essere andato a predicare ai pescatori i cirofenici dai quali l'iscariota si è fatto dare della purpura per la veste di Gesù il maestro con gli apostoli si riunisce alle donne e tutti insieme vanno a Cesarea Marittima dove la Maddalena deve affrontare altre persone che le sono state compagne nella vita di piacere lungo il cammino si sono abbattuti in sintica schiava greca fuggita dal padrone romano e l'hanno accolta mettendola al sicuro infine arriva il momento del commiato attenzione che di questa sintica o sintiche parla San Paolo nelle sue lettere quindi è un personaggio molto importante all'interno dell'opera sintiche San Giovanni di Endor si sarà diventato santo Giovanni di Endor era un altro grande peccatore convertito due pagani che poi Gesù dovette allontanare a causa appunto delle mentalità ristrette di Israele della cattiveria di Giuda li ha dovuto mandare appunto a predicare prima del tempo in Grecia perché non poteva più tenerti con sé storie molto molto belle molto avvincenti comunque veniamo a questo episodio presso un ponte su un torrente secco e affermo il carro delle sorelle di Lazzaro i due cavalli pasturano con l'erbafolta della rive del torrente forse secco da poco e perciò con sponde ben nutrite di erba il servo di Marta e uno forse conducente sono pure sul greto mentre le donne sono chiuse nel carro che è tutto coperto da una pesante coperta fatta di pelli gonciate che scendono a un modo di cortine pesanti fino sul piano del carro le donne discepoli si affrettano adesso ed il servo che le vede per primo dà l'allarme alla nutrice mentre l'altro si affretta a condurre i cavalli alle stanghe il servo intanto corre dalle padrone inchinandosi fino a terra l'anziana nutrice una bella donna di colorito rivastro ma piacente scende resta e va dalle sue padrone ma Maria di Magdala le dice qualche cosa e lei si dirige subito alla vergine dicendo perdona ma è tanta la gioia di vederla che non vedo che lei vieni benedetta il sole brucia sul carro e ombra questa è andata a salutare Maria di Magdala prima della Madonna ecco perché Maria di Magdala gli aveva detto qualcosa si capisce d'altra luna della risposta e salgono tutti in attesa degli uomini rimasti molto indietro mentre attendono e mentre sintica rivestita della veste che ieri aveva la Maddalena bacia i piedi delle sue padrone come ci ostina a dirle lei nonostante che esse le dicano che non è per loro né serva né schiava ma solo ospite in nome di Gesù la vergine mostra il prezioso facottello della polpura chiedendo come si può affidare quella cortissima barbetta il cui stamme rifiuta umidore e torcitura non si usa così donna va ridotta in polvere e usata come qualunque altra tintura questa è la bava della conchiglia non è un capello né un pelo vedi come è friabile ora che è secca tu la riduci in polvere fine la si tacci perché non rimanga nessun pezzo lungo che macchierebbe il filato la stoffa meglio se tingi il filato in matasse quando sei sicura che è tutta in polvere la sciogli come si fa con la cocciniglia o lo zafferano o la polvere dell'indaco o altre di altre cortecce o radici o frutti e la usi ferma la tinta con dell'aceto forte per ultima sciacquatura tecniche di composizione e di confettura di vesti antiche in particolare qui il colore delle vesti grazie Noemi dice Maria Santissima farò come tu insegni ho ricamato con fili porporini ma me li erano dati già pronti all'uso ecco Gesù ormai vicino è ora di salutarci figli vi benedico tutte nel nome del Signore andate in pace portando pace e gioia a Lazzaro addio Maria qui si rivolge a Maria di Magdala ricordati che hai pianto sul mio petto il tuo primo felice pianto perciò ti sono madre perché una creatura piange il suo primo pianto sul petto della sua mamma ti sono madre e tale ti sarò sempre quello che ti può appesare di dire anche la più dolce delle sorelle la più amorosa delle nutrici vieni a dirlo a me ti comprenderò sempre quello che non oseresti dire al mio Gesù perché è ancora intriso di un'umanità che egli in te non vuole vieni a dirlo a me ti compatterò sempre e se poi vorrai dirmi anche i tuoi trionfi ma questo preferisco che tu li dia a lui con affraganti fiori perché lui e non io è il tuo salvatore io giubilirò con te addio ma fermi tutti qui si rivolge a Marta qui non posso qui c'è la regina la nostra regina la mia regina la regina dell'amore che parla e qui bisogna assolutamente dire qualcosa bellissima queste parole che dice il comminato da Martina che cosa quali sono quelle che dobbiamo fare nostre quello che ti può appesare di dire anche alla più dolce delle sorelle viene a dirlo a me abbiamo fatto qualche guaio qualche marachella grossa andiamo a dirla alla Madonna la sa certo che lo sa ma la Madonna ci farà sentire la sua comprensione ti comprenderò sempre e poi sarebbero altre cose che anche se sappiamo che Dio ci vede dalla mattina alla sera non gliele diremmo a lui cioè non ne parleremmo con lui perché ci vediamo un po' troppo intrisi vieni a dirlo a me prima ti comprenderò ora ti compatirò sempre non ce la fai ancora sei ancora così debole così imperfetto e viene prenditi chi ti compatisce nelle tue infermità scrive San Paolo quindi chi dice vabbè dai forza coraggio andiamo avanti e poi trionfi qui c'è proprio la quintessenza questo è proprio quello che dice a lui cioè se mi devi dire una cosa un po' pesantuccia che non c'è il coraggio dilla a me se ti devi un pochino sfogare anche le cose umane insomma dilla a me ma se c'è qualche trionfo dilla a lui la madonna prosegue la sua distilleria divina di sapienza addio Marta ora tu te ne vai felice e in questa felicità soprannaturale perdurerai non hai dunque altro bisogno fuori di quello di procedire nella giustizia fra mezzo alla pace che nulla più turba in te fallo per amore di Gesù che ti ha amata tanto da amare questa che tu ami completamente addio noemi va col tuo tesoro ritrovato come per il latte con cui la sfamavi ora sfamati tu alle parole che essa e Marta ti diranno e giungi a vedere nel figlio mio molto più dell'esorcista che libera quali dal male addio sintica fiore di Grecia che hai saputo risentire da te sola che c'è qualcosa più della carne ora fiorisci in Dio e si la prima dei nuovi fiori della Grecia di Cristo io sono molto contenta di lasciarvi unite così vi benedico con amore grande ogni sillaba che esce dalla bocca della nostra regina è veramente una musica edificante lo scalpiccio dei passi ormai vicino alzano la tenda pesante e vedono che Gesù è a un due metri dal carro scendono sotto al sole cosciente che invade la via Maria di Magdala si inginocchia ai piedi di Gesù dicendo io ti ringrazio di tutto e anche molto di avermi fatto fare questo peregrinaggio tu solo hai sapienza ora parto spogliata dei resti della Maria di un tempo benedicimi per fortificarmi sempre di più si ti benedico godi dei fratelli e quei fratelli sempre più formati sempre più formati in me addio Maria addio Marta direi a Lazzaro che io lo benedico vi affido questa donna non ve la dono è mia discepola ma voglio che voi ritiate un minimo di capacità di intendere la mia dottrina poi verrò io Noemi ti benedico e anche voi due Marta e Maria se più ti piace è tutto amore sia il materno che il fraterno la conforta Gesù e così termina questo episodio questo congedo bellissime anche qui le parole di Maria di Magdala l'ingraziamento e la richiesta della benedizione a Gesù per essere sempre più fortificata nella sua lotta contro tutto ciò che era stato e che si sta lasciando alle spalle facciamo forse in tempo a leggere un altro paragrafetto che è abbastanza breve il suo giardino di Magdala ha cambiato destinazione quindi Gesù è su uno dei colli della riva occidentale del lago io salterei un attimo così non abbiamo tantissimo tempo alle solite descrizioni spettacolari di Maria di Magdala che qui comincia a fare un pochino di descrizioni geografiche dettagliate però è meglio saltarle Gesù ha scelto questa località alla quale le persone possono accedere da molte città del lago della Galilea interna e da dove a sera è facile tornare nelle case o trovare ospitalità in molti paesi il calore è anche temperato per l'altezza e per gli alberi di alto fusto che sulla vetta hanno preso il posto degli ulivi vi è infatti molta gente oltre gli apostoli e i discepoli gente che ha bisogno di Gesù per la salute o per dei consigli gente venuta per curiosità gente portata lì da amici o per spirito di imitazione molta insomma la stagione non più canicolare ma tendente alle languide grazie dell'autunno invita più che mai a pellegrinare in cerca del maestro Gesù guarisce i malati al maestro imparamo risponde alle domande che gli rivolgono quando resta solo con un aposto di discepoli dice ora posto che nessuno più ci ha cercato andiamo al lago riposeremo in Magdala nei giardini di Maria di Lazzaro c'è posto per tutti ed ella ha messo la sua casa a disposizione del pellegrino e dei suoi amici non occorre che vi dica che Maria di Magdala è morta col suo peccato ed è rinata dal suo pentimento Maria di Lazzaro discepola di Gesù di Nazareth voi lo sapete già perché la notizia è corsa come fremito di vento in una foresta ma io vi dico ciò che non sapete che tutti i beni personali di Maria di Lazzaro sono per i servi di Dio e per i poveri di Cristo ecco insomma i beni personali di Maria di Magdala è sicuro che erano non indifferenti Gesù non è più dove era nell'ultima visione adesso qui ci sono dei puntini dentro la parentesi quadra ma è in un vasto giardino che si prolunga fino al lago oltre il quale anzi in mezzo al quale via la casa preceduta e costeggiata da questo giardino che è sul dietro però si prolunga almeno tre volte tanto quanto lo spazio era di sul davanti della casa vi sono fiori ma più che altro alberi boschetti e recessi verdi quali chiusi intorno a vasche di mano per zio sono quasi come chioschi intorno a tavole sedili di pietra e dovevano esserci stato e qua e là lungo i sedili lungo i sentieri come al centro delle vasche ma ora restano solo i peristali dell'estate a mettere un ricordo di essere presso i lauri e i bossi e o a specchiarsi nelle vasche colme di rimpi d'acqua la presenza di Gesù con i suoi e quella gente di Magdala fra i quali è il piccolo Beniamino che ha osato dire all'iscarioto che gli era cattivo mi fa pensare che sia nei giardini della casa della mandalena riveduti e corretti per il loro nuovo ufficio con le pare dagli stessi quelle cose che potevano disgustare scandalizzare o ricordare il passato il lago è tutto un crespo grigio e azzurro riflettendo il cielo su cui scolazzano nobicariche delle rive oggi del piogge d'autunno eppure è bello anche così in questa luce ferma e pacata di un giorno che non è serene e che ancora non è del tutto piovoso le sue rive non hanno più molti fiori ma in compenso sono dipinte da quel sommo pittore che è l'autunno e mostrano pennellate d'ocra o di porpora ed estenuato pallore di foglie morenti per gli alberi e i vigneti che trascolorano prima di cedere alla terra le loro vesti vive vi è tutto un punto nel giardino di una villa che è sul lago come questa che rosseggia quasi traboccasse nelle acque del sangue per una siepe di rami flessibili che l'autunno ha fatto di un rame acceso da un fuoco mentre i salici sparsi sulla riva poco lontano tremano nelle loro foglie glauco argente sottili ancor più pari del solito prima di morire di su non guarda ciò che io guardo guarda dei poveri malati e quali impartisce quali giorni guarda dei vecchi mendichi e quali da denaro guarda dei bambini che le madri gli offrono perché le benedica allora piccola piccola considerazione prima di concludere allora qui amici cari è evidente che quello che vi era insinuato è assolutamente vero cioè Gesù qui si trovava con gli apostoli in una vecchia in un vecchio possedimento di Maria di mandala Gesù rivela numero uno che la grande penitente aveva destinato tutti i beni di Maria di Razzano per i servi di Dio e per i poveri di Cristo altro segno tentico di conversione ma la cosa importante è che questa casa è stata un po' bonificata perché non poteva rimanere pagana ecco tanto per fare una notazioncina catechetica al termine di queste cose attenzione a come teniamo a quello che ci sta dentro le nostre case io mi permetto di segnalare alcune cose tossiche che vi prego di non tenere in casa per il vostro bene cominciamo dai quadri e dalle sculture oscene che sono molto diffuse nelle case spero non in nessuna di quelle che ascoltano queste cose qui quelli bisogna toglierli i nudi cioè io li vedo in certe case statue nude dipinti di nudi quelli bisogna buttarli via subito ok segni di superstizione ferri di cavallo corni scope porta fortuna tutte queste cose qui quelle cose vanno prese vanno buttate nel secchio tutte zucche ogni tanto ne vedo qualcuna in giro di Halloween via e poi tutto ciò che è brutto il brutto anche se non è che posso dire un oggetto maleficiato cose di questo genere il brutto è sempre un richiamo al diavolo perché il diavolo è brutto io in certe case stanno certi mostri maschere totem brutture dico ma voi togli quella roba lì che se te le sogni una notte caschi dal letto dico ma che gusto c'è avere una cosa così brutta dentro casa cose belle ed edificanti nelle nostre case e a comando unitamente a un grande decoro a un grande ordine che creando così un ambiente degno di Dio che Dio vi benedica e che la Santa Vergine tutti vi protegga ci aggiorniamo se devo guardare alla prossima puntata grazie a tutti